99.990... 100.000! Oh mio Dio, oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Mi rischio, è molto magazzato, non giuro! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Coppia che Scoppia! Oggi è un giorno molto importante perché volevamo ringraziarvi di cuore per i 100.000 iscritti! 100.000 è un traguardo importantissimo, infatti io aspetto questo traguardo dal lontano 2009, quando ancora non conoscevo Alice facevo altri tipi di video. Quindi, oltre ad essere qui a ringraziare voi, sono qui per ringraziare lei, perché grazie a lei che tutto questo è stato possibile. Ma bando alle ciance, lo sappiamo tutti perché siete qui, dai, perché sono qui? Per vedere la sua pelata! Esatto, perché chi ci segue su Instagram sa che io avevo fatto una scommessa. Se arriviamo a 100.000 iscritti entro 7 giorni da questa storia, mi raserò a zero, completamente. Ragazzi, entro giovedì, mi raccomando, rasato, rasato. E quindi siamo qui per mantenere la promessa. Via col video! Ci siamo di nuovo! 99.900.000! 100.000! 100.000! 100.000! 100.000 iscritti! Allora, ragazzi, ci siamo! È arrivato il momento! Io non so più che cosa dire, i miei capelli! E faremo metà tagliati a zero e anche metà barba. Avrò la testa a metà, poi ovviamente... Le sopracciglia! No, le sopracciglia no! Mia sorella voleva anche le sopracciglia, ma se lo scorda! Tutta due... Come quando prendi le medicine che fanno schifo! Vai, tutta due d'unfiato! Vai! No, non so se ce la faccio tutti! Salutiamo il video, ragazzi! Ci siamo! È arrivato il momento! Mi raso! Oh mio Dio! Sono troppo corti! Vai, vai! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Fa vedere quanto sono... No! Sono troppo corti! Prendi l'altro misurino più lungo! No, 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 no! I capelli ricrescono! Oh mio Dio! No, raga! Fa vedere! Che brutta! No, cappello tutta la vita! Vai! Che brutta! No, metà! Ma dai, così, te! No, hai popolato! Bevati! Oggi c'è senza capelli! Oh mio Dio! Mi rischio! È proprio una cazzata, non giuro! Oh mio Dio, sei pelatissima! Dio, di solito dice che ho pelato in bocca! Guarda la corcina! Ma è bello che tipo, qua c'è gioco! Sta muore! Oh, il salto in cielo! Seconda parte ragazzi, guardate come sono combinato, ho perso tutti i capelli e tutta la barba, adesso passiamo all'altro lato! Qua mi serviva solo per fare la foto della copertina, senza paura! Tanto ormai il danno è fatto, non è che me li posso riappiccicare alla testa! Dai, non sto tanto male però! Mi fai una riga così al centro? Ma no! No, mi venuto una riga! Mi lasci un cosino qua al centro! Ma io lo lascerei comunque! No, mi metto il gel! Allora ragazzi, Mirko tiene il cappello perché non può svelare la sua identità! Mirko, di qualcosa! Eccoci qua ragazzi, adesso tipo peso 10 kg meno perché ho perso barba e capelli! Sono orribile! Prima cosa assolutamente da fare, abbronzarmi un pochettino perché sono Voldemort! La mia bacchetta, coda liscia! Lasciamo perdere i miei capelli! Abbiamo preparato una torta per ringraziarvi, cioè più che altro per mangiarla! E poi per ringraziarvi dei 100.000! Infatti adesso faremo una cosa molto artistica, molto figa! Ecco qua ragazzi, 100k! Quindi ora li mangiamo i 100k? Ora vi mangiamo tutti! Adesso vi mangiamo! Intanto nessuno starà guardando la torta perché tutti stanno guardando i miei capelli! Ragazzi il video non è ancora finito, quindi rimanete qui perché dopo i saluti c'è ancora una sorpresina per voi! I saluti del giorno sono Mary Guadagno, Carmine Bellotta, Alessia Pastore 6715, Maria Pia Murrone 06, Buonavoto Domenico, Fede Chirollo, Dada Scavelli, Alviano Lorenzo, Fabio Besca Puccini e Gironimi Alice! Se volete essere salutati anche voi dovete... Seguirci su Instagram e mandarci questo screen! Vi ricordiamo che su Instagram carichiamo un video al giorno, quindi se non ci seguite fatelo subito! Adesso per concludere il video abbiamo raccolto tutti i mini video della scorsa settimana e ve li mandiamo in onda solamente per voi! Per vedere quelli nuovi ovviamente dovete seguirci! Grazie ancora e mi raccomando iscrivetevi al canale per vedere il prossimo video e ora via con la collection! Ehi, che ne dici di toglierci questi vestiti umidi? Ehi, che ne dici? Amore, mi fai i grattini? Non c'ho voglia! E te pareva! La mia ex me li faceva sempre! Ehi, ciao! Che fai di bello? Niente! Stavo qua! Guarda la tele, Ju! Guarda la tele, Ju! Basta, se non mi scrive lui non lo cerco più Possono passare anche 50 anni La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale